ciao a tutti benvenuti o bentornati i miei carissimi io sono vincenzi oggi con questo foglio quadrato faremo una zucca spaventosissima allora facciamo delle diagonali da un lato una così è una così adesso giriamo il foglio e facciamo queste pieghe in verticale facciamo una croce ma appunto dalla parte opposta adesso chiudiamo così e facciamo questa linea teniamo da conto questa linea chiudiamo così e chiudiamo in questo modo sempre seguendo la linea portiamo sulla sinistra e giriamo di uno quindi facciamo così giriamo di uno e facciamo la stessa cosa con la parte sinistra uno e due facciamo così e apriamo adesso giriamo andiamo questa indietro sempre tenendo da conto questa linea questa la portiamo indietro così un po di più di questa in basso e facciamo questo movimento questa la mettiamo qui così e questo lo mettiamo qui in questo modo giriamo adesso non ci resta che mettere gli occhietti e là il sorriso spaventoso basterà ritagliare un po di cartoncino e con la colla mettere gli occhi e il sorriso che ve ne pare di questa zucchetta spero vi sia piaciuta spero la rifarete e alla prossima ciao a tutti un po creativi ciao ciao